Al grande fratello, le frecciatine e le trappole scattano ogni minuto. Ma cosa succederebbe se le parole andassero oltre e toccassero nel profondo la famiglia? Voi come reagireste se toccassero la vostra? Bene, il grande fratello chiama a raccolta la famiglia e i fratelli arrivano in soccorso. Ma chi avremo l'onore di ospitare in questa incredibile vicenda? Null'altro che il fratello di Giuseppe Garibaldi, sì, proprio il celebre Bidello Calabrese, è sceso in campo per difendere suo fratello e attaccare Beatrice Luzzi, la geffina dal carattere infuocato. Vi chiederete cosa sia successo di così grave da portare il fratello di Giuseppe a esprimere la sua opinione. Queste dichiarazioni hanno messo in dubbio le intenzioni di Beatrice, e la reazione della geffina è stata senza mezzi termini. Per me non esiste più qua dentro. Ma non è finita qui. Nel corso di una discussione con Giampiero Mudini, Beatrice Luzzi ha espresso giudizi forti su Giuseppe, definendolo ignorante, stupido, diverso da lei, e un gran figlio di un amico. Ecco avete capito. Cosa pensate di queste forti dichiarazioni? Lasciateci la vostra opinione nei commenti. Ecco la difesa del fratello di Giuseppe. Nicola Garibaldi ha voluto condividere il suo punto di vista tramite le sue Instagram stories. Nicola ha dichiarato. Lei voleva la storia d'amore. Voleva sposarsi con Giuseppe Garibaldi dopo una settimana di conoscenza. perché doveva mettersi con una persona che considera ignorante, stupido, diverso da lei, che ha 20 anni in meno. Questa donna non vuole che le siano nominati i figli però nomina la mamma degli altri. Giuseppe quando ha nominato i figli voleva dire che è una donna caparbia, testarda, che riesce ad andare dritta per la sua strada. Lei è brava a far innervosire le persone e incitare odio e poi fare la vittima. Siete d'accordo con Nicola Garibaldi o con Beatrice Luzzi? Fatecelo sapere nei commenti. Conclusion. Intrighi, passioni e rivalità sono all'ordine del giorno in questa spettacolare vicenda che coinvolge il Grande Fratello. Non dimenticate di lasciare un like se avete apprezzato il video e iscrivervi al nostro canale Gossip. Continuate a seguirci, perché la storia è ancora in corso. E chissà cosa ci riserverà il futuro. Sicuro.